Ciao a tutti, oggi parleremo della chat nei mondi virtuali e degli Insta Messages, allora per quanto riguarda la chat trovate la finestra della chat in basso, potete inviare a tutti un messaggio, ciao e benvenuti, invio, posso inviare anche un altro messaggio, rispondete qui e posso vedere, se non vedessi più questi messaggi, lo storico dei messaggi andando in chat locale nel tasto grigio e vedete tutta la serie dei messaggi, ciao e benvenuti, rispondete qui che ho mandato proprio in chat locale. Ora vediamo come mandare un messaggio, quindi un messaggio istantaneo a un'unica persona, utilizzo in questo caso questa persona, vado in manda im e dal momento che questa persona è amica mia mi comparirà qui nei miei contatti nella chat locale, manderò quindi a Lucky l'Antichi il mio messaggio, come stai? Questo è un messaggio che invio privatamente, ecco il messaggio sarà arrivato a quindi Lucky e Lucky mi risponderà, adesso vado di là a vedere, come potete vedere Lucky l'Antichi mi ha risposto con bene, come vi dicevo comunque le persone possono quindi colloquiare individualmente con noi, sì noi le abbiamo poi registrate come nostri amici, ecco infatti per registrare una persona come amico, per aggiungerla vado in aggiungi Lucky è già mia amica e cliccherete su aggiungi come amico per aggiungere un'altra persona quindi questo è indispensabile per poter poi fare tutte le altre operazioni di interazione con gli altri avatar ecco per quanto riguarda la conversazione con chiunque potrei anche accedere dal fumetto che trovate qui in basso ci sono tante modalità per comunicare e per avere gli stessi risultati ottenere gli stessi risultati e quindi potrei cliccare sul fumetto cliccare su uno dei miei contatti o amici che trovo nella sezione qui alla mia sinistra e mandare un messaggio privato a questo contatto a Lucky esempio sono di nuovo io invia e vediamo ora se Lucky mi risponde Lucky mi ha risposto come vedete qui dalla cronologia ancora mi scrivi questa finestra ha delle conversazioni comunque molto interessante perché abbiamo quindi l'opportunità cliccando sulle varie finestre questa degli amici dell'offri o chiedi un teleport del puoi mandare un oggetto soldi, denaro chiamare in voce aprire la cronologia degli in aggiunge qualcuno a questa conversazione quindi una casella molto interessante ma non possiamo soltanto servirci di queste finestre ho la possibilità anche quindi di andare in comunica amici cliccare su amici qui trovo tutti gli amici il nome di tutti gli amici che ho di quelli che sono presenti online e poi cliccherò ad esempio su uno di questi amici per per mandare un im oppure per offrire un teleport a questi amici adesso vediamo come offrire un teleport utilizzando questa finestra per fare questo mi sposto in un altro luogo ad esempio vado fuori appena fuori qui e vado in comunica amici oppure contatti anche contatti facciamo questa volta così mi vengono gli amici e anche i contatti che ho e clicco su l'achila antichi vedete per mandare un messaggio da qui vado in contatti potrei cliccare su uno di questi contatti che sono qui ad esempio visualizzarlo in questa finestra nella parte centrale e offri ttp ttp scusate e allora chiedo vuoi venire ecco mando questo teleport la richiesta di teleport quindi l'achie vediamo se mi risponde e viene ecco come vedete l'achie è arrivata quindi ha risposto positivamente al mio messaggio ed è venuta qui in questo luogo quindi si comunica testualmente attraverso la chat locale ricordatevelo ho l'immediato per riassumere quindi accesso all'invio dei messaggi con il fumetto anche individuali ho la possibilità di invece inviare messaggi o andando in amici o contatti nello stesso andiamo in contatti che ci da i contatti agli amici e avete visto che è molto semplice anche offrire un teleport ricorrendo questa finestra cliccando nella finestra centrale sulla persona e chiedendo la persona mandando la persona il teleport che dovrà essere accettato dalla persona un altro modo per comunicare attraverso la voce è importante prima comunque di andare nelle impostazioni preferenze a settare poi le audio e a media e quindi andiamo a vedere su voice dovete assicurarvi che sia spuntato il tasto abilità a voce posso poi andare ad impostare lasciate tutto com'è il resto impostazioni periferiche e audio nel caso nel caso voi abbiate delle periferiche specifiche da utilizzare io lascio predefinita e poi potete regolare anche il volume del voice faccio ok ricordatevi abilità voce ok se il il voice è attivo voi vedrete comparire un puntino bianco sopra la vostra testa non bisogna abusare del voice meglio scrivere in chat perché potrebbero sovrapporre le voci quindi usarlo con una certa cura e attenzione per abilitare la voce basta cliccare in basso sulla casella del microfono la spunta e una sola volta sul microfono in questa maniera vedete compagnie adesso le ho tolte le ondine che mi permettono di parlare le ho tolte perché ve le faccio vedere ma non parlerò mentre le guardate perché sennò si sovrappone l'audio della della registrazione si è disattivato ecco ho disattivato va bene perché la doppia registrazione crea dei problemi comunque avete visto che si attiva in questa maniera l'audio ricordatevi ve lo ripeto spuntate sulla casella e una volta sola sul microfono e vedrete comparire le ondine ecco adesso adesso spento come vedete l'audio anche la comunicazione audio importantissima nei luoghi virtuali e se regolata si ottengono molti effetti positivi nella comunicazione riassumendo abbiamo visto come comunicare attraverso la chat come mandare dei messaggi privati e come comunicare attraverso la voce questo è tutto buonasera con un rato l'ho 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 l'ho